Questa mattina invece il Cardinale Arcivescovo ha celebrato la messa nella Basilica di San Giacomo Maggiore in occasione della festa dell'Arcangelo Michele, patrono della Polizia di Stato. Siete gli angeli di Michele che combattono contro il male, ha detto il Cardinale agli agenti presenti alla celebrazione, siate i testimoni dell'ordine fondato sulle leggi della forza della giustizia, ben più potente alla fine della giustizia della forza.